discarica a riceci ore decisive nel cda di marche multiservizi concluso il percorso di pesaro 2024 coi comuni della provincia partito il restauro della madonnina dei cappuccini monbaroccio in festa per gli 800 anni del beato sante gradara avvolta dal fascino dell'assedio al castello una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv ben ritrovati ad una nuova settimana in compagnia dell'informazione di rossini news oggi partiamo in questa settimana con il telegiornale di lunedì 24 luglio che apriamo occupandoci delle ore decisive in corso per il tanto dibattuto progetto della discarica di rifiuti speciali da realizzare nella località petrianese di riceci alle 17 di oggi iniziato nella sede di marche multiservizi il consiglio d'amministrazione che dovrebbe prendere una decisione definitiva su questo progetto cda che come stiamo per vedere da queste immagini è stato accompagnato da un presidio di manifestanti dei vari comitati contrari all'impatto che avrebbe questo impianto siamo qui per condividere insieme alle altre associazioni quello che è l'obiettivo principe di bloccare il progetto di discarica a riceci vogliamo aggiungere però una cosa molto importante perché noi se questo progetto verrà realizzato in qualsiasi altro luogo noi saremo ugualmente contrari perché questa non non è la battaglia della localizzazione del progetto ma qui dobbiamo avere la forza di dire no a qualsiasi progetto che nasce con l'obiettivo di fare utili a danno di cosa a danno del nostro ambiente del nostro territorio e della salute dei cittadini quindi che sia oggi una vista una discarica dei cieci un digestore anaerobico a valle foglia o domani un inceneritore non sono queste le soluzioni per la nostra provincia per il nostro territorio quali pensate che possono essere magari le soluzioni sicuramente dobbiamo invertire il senso di marcia iniziare ad attuare una pianificazione che al momento non c'è e soprattutto dobbiamo incentivare al riuso al riciclo alla raccolta differenziata e soprattutto sensibilizzare i cittadini a ridurre anche la produzione stessa di rifiuti. Un progetto di cui ribadite la contrarietà oggi in questo sit-in qui davanti alla sede di Marche Multiservizi? Sì un progetto nato male in modo poco chiaro dannoso per tutta la provincia e nel posto più sbagliato che si potesse immaginare risceci che appunto è una delle vallate più belle della nostra provincia. Quindi siamo nettamente contrari ma soprattutto per come si è sviluppato questo progetto crediamo sia il caso di bloccarlo, fermarlo, annullarlo e anche chiediamo le dimissioni dell'amministratore delegato che ha proposto, che è stato il primo promotore di questo progetto. Avete anche nei mesi precedenti riportato anche questa poca trasparenza che c'è stata nell'acquisizione dei terreni? Assolutamente sì, noi abbiamo saputo tutto questo da voci di corridoio, da agricoltori che a un certo punto si sono trovati a casa delle persone che chiedevano terreni a cifre molto molto interessanti e quindi è stato un passaparola tra cittadini, tra locali. Il progetto innanzitutto nasce in un luogo inadatto perché è stato pubblicizzato da Hoffman dieci anni fa come le bellezze delle marche e il territorio marchigiano. Dopo dieci anni andiamo a crearci una discarica di 5 milioni di metri cubi mi sembra una cosa illogica. Si produce prodotti biologici, ci sono aziende che producono biologico per dare alle nostre aziende che producono il latte, il formaggio e tutto il resto. Chiediamo che questo progetto venga ritirato perché non è ammissibile continuare ad andare contro a un legittimo istinto cittadino che è quello di difendere una delle vallate più belle che veramente abbiamo. non lo dico in maniera retorica perché avendo girato un po' il territorio posso dire che riceci per la sua strada, le sue colline incastonato tra Monte Fabri, città, Borgo, tra i più belli d'Italia e Urbino è inamissibile avere una discarica lì in mezzo. E un'altra riunione tenutasi oggi sicuramente più distesa è stata quella relativa all'ultimo 24 del mese quello appunto di luglio che avvicina al 2024 anno di Pesaro Capitale della Cultura. Sette mesi di tour nelle costruire un percorso condiviso nella provincia con i suoi territori che oggi ha avuto il suo atto conclusivo alla costruzione del programma nell'Unione Pian del Bruscolo. Gli appuntamenti previsti per ogni 24 del mese per il 2023 in attesa di Pesaro 2024 si sono conclusi oggi al termine di una giornata intensa di strategie e dialoghi tra i comuni di Pesaro, Monte Calvo in Foglia, Gradara, Gabice Mare, Monte Labate, Petriano e Tavuglia. Un percorso progettuale proiettato a costruire una rete sempre più solida per il presente e per il futuro con il focus mirato allo sviluppo territoriale. Siamo al quinto e ultimo appuntamento di queste giornate dei 24 del mese in avvicinamento al 2024 all'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo quindi Valle Foglia come baricentro in questo caso di un'area più vasta che tocca da Pesaro, Gabice, Gradara, la stessa Valle Foglia, Monte Calvo, Petriano, Monte Labate e Tavuglia e quindi anche l'occasione come nelle altre zone dell'Alta Valmetauro, del Caterinerone, del Monte Feltro o della Val Cesano per andare anche oltre quella che è la programmazione dei singoli comuni che saranno capitale italiana per una settimana ma darsi anche un'idea di racconto di zona. Si ragionerà anche di collegamenti pubblici, di intermodalità, di bicicletta, di sharing di tutto quello che potrà aiutare a fare sì che il pubblico della capitale 24 possa muoversi anche non conoscendo esattamente il territorio. Delle grandi opportunità per veicolare Pesaro, la provincia, le Marche, il centro Italia diciamo in giro per l'Europa, per il mondo ed è un pezzo anche del sistema economico io mi ricordo quando iniziò la prima edizione del Ruscino Opera Festival tutti dicevano che con la cultura non si mangia, in verità la cultura è un pezzo importante dell'economia, i beni culturali, i beni religiosi, il turismo religioso, insomma ecco quindi per noi tutti i comuni del comprensorio pesarese che fanno capo all'Unione dei Comuni ma anche quelli dell'ambito sociale che non sono dentro l'Unione dei Comuni è una grande e straordinaria opportunità grazie al sindaco di Pesaro, all'amministrazione comunale di Pesaro ma grazie anche all'apporto che ognuno di noi ha dato per arricchire la giornata di oggi è una giornata con le agenzie, con il sistema economico, con i beni religiosi quindi la riflessione serve per mettere a punto le strategie Cambiamo argomento, se la settimana scorsa è stata caratterizzata dal picco di caldo nella nostra regione quella appena cominciata potrebbe invece continuare con episodi temporaleschi va in questo senso l'allerta meteo di carattere giallo della protezione civile che annuncia la possibilità di rovesci sparsi e ventoforte per domani e anche per mercoledì 26 luglio un meteo imprevedibile come quello che sabato ha generato l'onda anomala in tutta la nostra costa un'onda che vi abbiamo mostrato attraverso i nostri canali social grazie alle tante segnalazioni che voi telespettatori avete inviato a Rossini TV Nel cuore del sabato pomeriggio rigonfio di bagnanti sulle nostre spiagge il cielo si è fatto plumbio e minaccioso e il mare si è ingrossato generando un'onda anomala che ha invaso metà dell'ampiezza degli arenili Agabice, Pesaro, Fano e Marotta un fenomeno documentato in presa diretta dai tanti video amatoriali che voi telespettatori avete inviato a Rossini TV fornendo una documentazione preziosa di un evento inusuale ma non così raro di fatto si è creato uno scontro fra un vortice di aria fredda e una massa d'aria calda che ha prodotto venti forti gonfiando il mare non ci sono stati né feriti né danni alle strutture ma una generalizzata corsa a recuperare effetti personali finiti in mare così come a tutelare i bambini più piccoli una prensione generale che ha creato un fuggi-fuggi dalle spiagge e una congestione delle ciclabili a fronte di un cielo minaccioso che prometteva una tempesta che poi non c'è stata un fenomeno tanto strano quanto rapido il mare è rientrato in fretta nei suoi confini e la mattina seguente la spiaggia si è ripopolata come la più classica domenica di luglio si è chiusa ieri sera con l'intervento conclusivo del sindaco Matteo Ricci la seconda edizione della festa dell'unità nella location di Baia Flaminia una festa del Partito Democratico di Pesaro che ha visto alternarsi sul palco ospiti nazionali come l'ex governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini così come la segretaria nazionale Elie Schlein intervenuta venerdì alla festa durante la seconda giornata e accolta da circa 400 persone è stata una delle immagini simbolo del terremoto dello scorso 9 novembre parliamo della testa della stato della madonnina dei cappuccini sfregiata dal sisma ora è partito però il progetto di restauro per riportarla alla bellezza originale ad un mese e mezzo dall'annuncio del progetto di recupero sono partiti i lavori di restauro della statua della madonnina dei cappuccini divenuta il simbolo dei danni del terremoto del 9 novembre scorso che colpì la città di Pesaro lavori che sono promossi dal Lions Club Pesaro della Rovere col contributo di Renco S.P.A. e con l'intento di fare un dono alla comunità pesarese un'operazione affidata a Michele Pagani di Restauro e Etra che in questi giorni sta cadenzando gli interventi schivando i momenti di caldo primente incompatibile a restauri che sono aiutati da carrelli elevatori l'intervento prevede prima il recupero del frammento di corona distaccata dal sisma che è stato conservato dai frati cappuccini e poi la ricollocazione e consolidamento nella calotta cranica della statua compatibilmente alle condizioni meteo i lavori dovrebbero terminare già entro il mese di luglio per restituire alla città la matastatua e parliamo di altre icone religiose del nostro territorio provinciale in particolare di una delle più antiche ovvero il Santuario delle Beato Sante che a Monbaroccio ieri ha celebrato il suo ottocentesimo anniversario ricorre l'ottavo centenario della presenza dei frati minori francescani sul colle di Santa Maria di Scotaneto conosciuto oggi come Santuario del Beato Sante considerate che il Santuario del Beato Sante è il primo convento fondato dai frati francescani nella diocesi di Pesaro quando era ancora in vita San Francesco il nucleo originale nel quale ci troviamo fu eretto nel 1223 oggi quindi sono 800 anni che viene celebrato il Beato Sante di Monbaroccio uno dei luoghi più belli in assoluto della nostra provincia e fatecelo dire forse anche dell'intera regione Marche siamo qui con le nostre telecamere per testimoniare questa festa per raccontare questa giornata meravigliosa che si svolge peraltro in una condizione climatica davvero eccezionale domenica 23 luglio 800 anni del Beato Sante a Monbaroccio perché 800 anni fa non era Beato Sante ovvio ma era Santa Maria di Scotaneto era una chiesetta che i francescani gradivano sempre queste chiesette e poi piano piano ci hanno costruito il convento ma 100 anni dopo il Beato Sante bussa alla porta di questo convento e già c'era la chiesa effettua già i frati in 100 anni avevano fatto delle costruzioni lui aveva bussato qui perché aveva avuto un incidente un giovanotto giocando con le spade aveva ferito un amico e da quella ferita era morto e quindi lui si era talmente dispiaciuto che ha bussato e ha voluto fare i mestieri più umili del convento la questua, la porta che era molto pericolosa a quel tempo e la cucina e questa attività ci è diventato Beato vedo tanta emozione intorno a me da parte di tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questo magnifico evento le forze dell'ordine, le associazioni il territorio, il mondo dell'imprenditoria tutti a fianco a noi dell'amministrazione tutti a fianco e mano l'uno con l'altro per arrivare a questa magnifica giornata ho deciso di fare il sindaco 5 anni fa passeggiando in questo bosco e oggi sono quasi alla fine del mio mandato in una giornata così importante quindi ho iniziato nel santuario e sto quasi per finire il mio mandato all'interno di questo santuario che mi riempie ogni volta di emozione immaginare questi frati che portavano il messaggio evangelico di Francesco D'Assisi con umiltà nella povertà e il loro stile di vita sicuramente ha segnato il loro messaggio ha segnato la cultura di un intero popolo e poi questo rapporto e questa presenza è continuativa per 800 anni quindi immaginiamo quanto questo abbia inciso nel modo di vivere, nel modo di pensare nello stile di vita di generazioni e generazioni tutti sappiamo un po' del calo numerico vocazionale l'invecchiamento diciamo anche del clero e allora noi attraverso anche questo evento perché no desideriamo, ci auspichiamo davvero di cuore che possa ripartire essere un segno di ripartenza di rifioritura, di rinascita non solo della struttura architettonica, fisica che d'altronde è già bellissima quando della vita fraterna nostra della vita dei frati minori 800 anni, pensate quanti frati sono passati in questo convento pensate quanto servizio hanno reso alla nostra comunità che bel dono e penso che questo debba essere trasmesso anche a noi a noi civili a noi comuni immortali dobbiamo imparare a donarci a donarci sempre di più perché il dono è la cosa più grande che possiamo dare e secondo me ci fa anche sentire meglio e vi ricordiamo che potrete ulteriormente approfondire l'ottocentesimo anniversario del Beato Sante nello speciale che Rossini TV trasmetterà mercoledì 26 luglio alle ore 21.20 ed è anche legata a questo anniversario la seconda tappa del Festival di Conterranea tenutasi sempre a Monbaroccio nel weekend appena trascorso il viaggio di Conterranea nelle terre dell'olio dop di Cartoceto ha consumato nel weekend la seconda delle sue tre tappe nei giardini di Palazzo Guidovaldo del Monte a Monbaroccio in un appuntamento fra scienza, territorio e fede contrassegnata dalla concomitanza con l'ottocentesimo anniversario del Beato Sante un viaggio su più livelli con un menù curato dagli chef Sergio Zebele e Anna Elisa Dell'Onte del ristorante Piccolo Mondo il tutto accompagnato dallo spettacolo musicale Echi di fede e ragione partendo da Battiato e dal talk tenuto dal filosofo Paolo Ercolani il percorso di Conterranea si concluderà poi il 29 luglio a Cartoceto in Piazza Marconi terrazza antistante il Teatro del Trionfo proprio al teatro un tempo frantoio deposito di olive e oggi luogo d'arte e di spettacolo nonché prossimo polo di innovazione artistica sarà tributata l'intera serata sarà la chef Eva Maria Valk dell'Osteria del Cardinale con la collaborazione del gastronomo e sommelier Hotel Lorenzi ad articolare portata dopo portata il percorso enogastronomico durante la serata lo spettacolo musicale inedito sulle note della storia italiana a partire da Teatro 10 ad approfondire il percorso il talk con il direttore di Amat Gilberto Santini a Vallefoglia sono iniziati i lavori per l'installazione dei punti di ricarica gratuiti per le biciclette elettriche del territorio comunale l'importo del progetto comporta un investimento di 97 mila euro e prevede la realizzazione di 8 punti di ricarica per bici elettrica in prossimità delle principali fermate degli autobus al fine di favorire gli spostamenti intermodali con più mezzi ecocompatibili e limitare così l'utilizzo delle auto vetture nell'ambito della campagna itinerante di sensibilizzazione cuore mediterraneo il consorzio ricrea ha consegnato oggi al comune di Gabicce Mare uno speciale riconoscimento per l'impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti secondo le stime infatti nel 2023 a Gabicce ne verranno raccolti 2,75 kg per abitante ovvero più 25% rispetto alla media della regione Marche e invece a Borgo Santa Maria si torna a ballare sulla riqualificata pista del Parco dei Tigli ieri gli assessori al fare e alla solidarietà Riccardo Pozzi e Luca Pandolfi hanno infatti inaugurato la nuova pavimentazione della pista polivalente di Pozzo realizzata grazie ad un contributo del bilancio partecipativo e ieri invece le telecamere di Rossini TV si sono accese anche a Gradara in occasione del decimo anniversario dell'assedio al Castello una delle rievocazioni storiche più accurate d'Italia che vi proporremo nello speciale che andrà in onda giovedì 26 luglio alle 21.20 ma che vi anticipiamo ora in questo servizio realizzato da Roberta Esperide torna alla decima edizione con grande entusiasmo dopo diversi anni di stop di una delle rievocazioni storiche più belle del nostro paese l'assedio al Castello di Gradara l'assedio al Castello di Gradara ci fa rivivere a tutti gli effetti e direi con grande accuratezza l'assedio appunto a Gradara e al suo castello del 1446 dai potenti eserciti degli Sforza e dei Montefeltro tantissimi figuranti questa sera all'interno del borgo che ci riportano in quel momento storico 10 edizione, 5 anni di stop forzati a causa pandemia il sedio è viennale come evento quindi abbiamo beccato il 2020 come edizione di stop e anche gli anni dopo perché era difficile organizzare eventi con restrizioni che sappiamo comunque è passata 10 edizione, il sabato, la serata di apertura quella più importante e in grande è andata molto bene, tantissime persone al campo hanno assistito a questo spettacolare evento storico perché resta comunque un evento storico col cinema e spettacolo iniziale e a chiusura del grande spettacolo piromusicale pensiamo di aver dato anche quest'anno la giusta visibilità a un borgo a un castello che meritano ma anche avere contribuito ad approfondire ulteriormente il radicamento di questo evento nella comunità, non solo gadarese ma anche locale e avere contribuito anche a diffondere un po' di storia e un po' di cultura nel 1446 Gradare diventa teatro di uno degli assedi più sanguinosi della storia secolare del castello perché qui siamo al confine tra Marche e Romagna all'epoca quindi al confine tra due delle più importanti signorie del periodo rinascimentale italiano ovvero i Malatesta e i Montefeltro Castello di Gradare è legato storicamente appunto alla tradizione malatestiana e nel 1446 nel mese di ottobre-novembre Francesco Sforza, alleato di Federico da Montefeltro e appunto Federico Montefeltro ancora Conte e non Duca decidono di cercare di conquistare Gradara e assedieranno il castello per 43 giorni e 43 notti non riuscendo a fare breccia nelle mura e a vincere la tenazza e la resistenza dei gradaresi che alla fine riuscirono appunto a salvare il castello perché ricordiamo e le sottolineiamo Gradara non è mai stata conquistata con le armi è stata seduta di contrattati ma non è mai stata conquistata con le armi e questa è la riprova appunto della ben riuscita della difesa dei gradaresi in quel lontano 1446 l'evento ricordiamolo che erano più di 250 rievocatori quest'anno e con più di 20 pezzi di artiglieria con più di 10 cavalli ed è stato appunto come rientrare in un campo di battaglia medievale perché il punto di forza della sedia è uno e filologicamente è accurato non dico il 100% perché la perfezione non esiste ma un buon 90% c'è perché tutti i nostri rievocatori hanno abiti studiati e ripescati da manoscritti originali del periodo ed è invece arrivato alla 21esima edizione il sempre partecipatissimo torneo di basket pesarese delle Cristo Re dedicato alla memoria di Michele Bacchini vediamo com'è andata 40 squadre e più di 200 cestisti con buona rappresentanza di Serie A2 e Serie B a sfidarsi in 195 partite sul mitico playground del Cristo Re si è consumata l'appassionata 21esima edizione del torneo Bacco Forever dedicato alla memoria del compianto Michele Bacchini a laurearsi campione del trofeo 2023 la squadra dei Best Brow Team composta da Giona Sinatra, Matteo Ricci, Alessandro Panzieri Matteo Longoni, Alessandro Ceccolini e Andrea Giampaoli Best Brow che hanno battuto in finali Sex Pistols fra gli applausi anche di Daniel Hackett della Virtus Bologna che ha assistito dagli spalti per il Best Brow Team non solo il prestigio del trofeo ma anche la partecipazione alle finali nazionali Red Bull Italia alle quali è stato abbinato il torneo del Cristo Re finali che si terranno a Rimini il 29 luglio e si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo come sempre alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare dalla prima serata di questo lunedì 24 luglio vi riproporriamo come ogni lunedì i luoghi più belli del nostro territorio i luoghi proposti vi da Green Tour questo fortunato format di Rossini TV che nella puntata in questione vi porterà alla conoscenza di Vallefoglia e Montelabate puntata che potrete rivedere anche in replica giovedì alle 15.30 e domenica alle 12 e poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa che come sempre vi tiene compagnia dal lunedì al sabato mattina e facciamo un salto in avanti anche a domani martedì 25 luglio con la nostra prima serata in musica dedicata allo spettacolo che vi proporremo in versione integrale andato in scena in occasione di Mira al Teatro d'Estate ovvero si tratta di voci e musica di una notte di mezza estate realizzato dal coro del Grillo d'Oro e dall'ex novo coro urbano ed è davvero tutto per questa sera si conclude qui Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi